Allora, Sessore, per questa festività natalizia è un mercato straordinario contadino per andare incontro alle esigenze e ai gusti di tutti? Sì, abbiamo approfittato delle festività natalizie per poter portare più vicino alla gente il mercato contadino che normalmente tutti i lunedì mattina viene fatto in piazza della fattoria. Quest'occasione, sabato 17, tutto il giorno il mercato contadino si sposta in piazza Marsiglio Ficino. È un'occasione importante, è un'occasione nella quale riusciamo a portare veramente la parte dell'agricoltura alla cittadinanza. Abbiamo qui accanto a noi la rappresentante Francesca, rappresentante degli espositori del mercato contadino che vi esporrà un attimino che cosa verrà fatto in quella giornata. Allora, un mercato contadino del tutto straordinario per un'intera giornata il 17 dicembre con possibilità anche di confezionare pacchi dono per il Natale. Esattamente, siamo straordinariamente nella piazza centrale perché come diceva l'assessore, normalmente siamo lunedì in piazza della fattoria, invece per il Natale ci siamo organizzati dalle 10 alle 18 con il nostro mercato dove oltre alla normale spesa quotidiana che potete fare ci sarà anche la possibilità con un tavolo di fare dei veri e propri cesti natalizi con i nostri prodotti. Li potete comporre, vedete è una cosa molto semplice, un cestino di cartone perché ovviamente noi, la maggior parte delle nostre aziende sono anche biologiche per cui c'è anche un'attenzione a una produzione etica e responsabile, quindi abbiamo cercato di limitare il più possibile la plastica e quindi comporre un cestino con i prodotti che uno preferisce e non solo, siccome si prevede e si spera che sia freddo, come Natale vuole, ci sarà ovviamente anche chi offrirà del vin brulee, delle tisane, ci sarà la possibilità di mangiare in piazza con le cose preparate dai nostri produttori e quindi noi vi invitiamo proprio perché è importante fare la spesa da noi per mantenere bello, vivo e produttivo il nostro territorio.